Signori e signori, buonasera, benvenuti a casa mia, benvenuti ancora, nuovamente, scusate, ben ritrovati qua nel disordine usuale e a voi ben conosciuto della mia libreria. Allora, cari signori, vi avevo promesso che avrei cominciato a parlare ampiamente di questo libro, la meccanizzazione dell'esercito fino al 1943. Lucio Ceva e Andrea Curami che hanno curato questa monumentale opera per l'ufficio storico dello Stato Maggiore dell'esercito. Quindi oserei dire che si tratta di un libro, ho già fatto la recensione, e ripeto, la chiarezza, la chirurgica esposizione dei fatti proposta dagli autori tramite degli archivi dell'esercito, dell'ansaldo, della Fiat e degli archivi personali dei protagonisti, diciamo, è un libro assolutamente indispensabile per capire non solo la storia della modernizzazione del nostro esercito, ma anche i meccanismi della nostra sconfitta, i meccanismi della nostra disfatta. Un esercito, il nostro, quello composto da contadini semi-analfabeti che molto spesso non sapevano nemmeno andare in bicicletta e che si trovarono a dover combattere in situazioni assolutamente impossibili, ok? Ma quello che era peggio, e si evince chiaramente dalle ricerche straordinarie, eccellenti, eccezionali, diceva Ecurami, che il problema non stava tanto, e non solo, nella retratezza tecnologica dei nostri mezzi, ma nella retratezza mentale, culturale e umana dei nostri alti comandi. Ceva e Ecurami ci parlano di un grave problema relativo a quello che avvenne alla vigilia di Compass, della disfatta di Compass. Praticamente, sentite un po' qua. Allora, la differenza tra, come dire, quello che avevano imparato gli inglesi e quello che imparammo noi. Allora, scrivono Ceva e Ecurami. Una prova che la lezione del 39-40 aveva trovato terreno fertile in Gran Bretagna, parliamo della campagna di Polonia e della campagna di Francia, sta nel fatto che le prime vittorie di guerra mobile e meccanizzata, appunto quelle a nostro danno in Cirenaica, furono guadagnate da generali non provenienti dall'arma corazzata, bensì dalla fanteria, come Wavell e O'Connor. Sì, perché Wavell e O'Connor non erano carristi. I vincitori di Compass non erano carristi, erano fanti, erano generali di fanteria che avevano però imparato la lezione impartita dai tedeschi in Polonia e in Francia. Chiaro? Anche se va riconosciuto che i loro migliori reparti, i reparti di Wavell e O'Connor, protagonisti di Compass, dicevo, erano stati formati in precedenza da uomini soprattutto del Royal Tank Corps, come i già ricordati Hobart e Pope. Ma appunto questa capacità di usare in modo corretto strumenti formati da ufficiali di altra scuola e in taluni casi di diverse formazioni culturali, provava che l'esercito britannico, pur con isole di arretratezza e di anchilosi mentali, presenti del resto in qualsiasi istituzione di ogni paese, non mancava tuttavia della duttilità e della rapidità necessarie per assimilare e mettere a frutto gli insegnamenti del presente, ovvero sia, detto in soldoni, gli inglesi avevano una flessibilità mentale e culturale che i nostri generali si sognavano la notte, a parte pochi di loro. Purtroppo, e qui casca l'asino, quello di predappio che adesso non raglia più, purtroppo così non accadde da noi, o piuttosto ciò accadrà anche da noi, almeno in parte, ma solo in conseguenza della prima sconfitta libica, quella di Compass, e per lo più limitatamente ad una fascia di ufficiali anche generali, ma quasi mai in posizioni di vertice, ovvero sia, più il somaro è in alto, meno il somaro impara, chiedendo scusa ai somari. Nell'autunno 1940 avevamo un capo di Stato Maggiore generale, quale Badoglio, 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 che in data 27 ottobre poteva scrivere al capo del governo, cioè Mussolini, in tutta serietà questi concetti e ci parlano delle, scusate, prendo gli occhiali, perché faccio un po' fatica, dicevo, e ci parlano di quello che scrisse Badoglio a Mussolini. Come abbia fatto a farlo senza mettersi a ridere non so. Allora, scrive Badoglio, noi abbiamo presentemente in Libia 230.000 uomini, ritengo che un'armata di almeno 80.000 uomini debba gravitare verso la frontiera libica occidentale. Rimangono quindi disponibili 150.000 uomini per le operazioni contro l'Egitto. Data l'enorme lunghezza delle nostre linee di comunicazione, il personale adibito ai servizi assumerà proporzioni impressionanti ed è quindi prudente fissare nella cifra di 120.000 uomini la disponibilità di veri combattenti sulla frontiera orientale, quella con l'Egitto. E questa disponibilità diminuirà ancora man mano che procederemo verso est. Alla fine dell'anno, essi, gli inglesi, avranno in Egitto non meno di 300.000 uomini. Gli inglesi avranno quindi ammassate nel delta del Nilo forze sicuramente doppie di quelle di cui noi disponiamo attualmente in Libia orientale. In tale situazione, l'apporto di forza che i tedeschi vorrebbero dare, ossia una divisione ridotta di carri armati, non sposta granché il rapporto perché i tedeschi avevano offerto aiuto per la guerra nel deserto. Occorrerebbe l'invio nostro di altri 200.000 uomini per alterare detto rapporto a nostro favore, dice Badoglio. Manca a noi il nalviglio occorrente per il trasporto. L'alimentare, poi una forza così cospicua, in Libia è compito superiore alle nostre disponibilità e alle nostre possibilità. Conclusione, dice Badoglio. 1. Il problema di attaccare le forze inglesi nel delta del Nilo, date tutte le considerazioni fatte, non è da noi risolvibile. L'aiuto che ci possono dare i tedeschi non può risolvere in alcun modo la questione. 3. Il compito che ci possiamo proporre di risolvere è quello di occupare Marsa-Matruc allo scorpo di permettere alla nostra aviazione adeguatamente scortata dalla caccia di rendere difficile la sosta della flosta inglese ad Alessandria. Giunti a Marsa-Matruc, prima cura dovrà essere quella di sistemare difensivamente quella base e la retrostante linea di comunicazione in modo da essere sicuri contro ritorni offensivi del nemico. 4. Badoglio Dixit alla vigilia di Compass quando 36.000 anglo-indiani si portarono a casa 40 ettari di prigionieri italiani. Badoglio, vabbè, parliamone. Allora, continuano cura e cerami dicendo che scusate, ceva e curami scusate, il lapsus continuano che è una prosa che davvero si commenta da sola. Badoglio così scriveva alla vigilia dell'azione britannica che con 36.000 uomini e una divisione di carri armati ridotta rispetto agli organici avvenzerà per 800 chilometri in 56 giorni annientando una nostra armata di 130.000-140.000 uomini. Ne vale obiettare che in queste considerazioni si leggono in un promemoria che doveva riassumere gli argomenti più adatti per rifiutare e sottolineo rifiutare nel prossimo incontro con il Feldman e Schallo Keitel il 14 e 15 novembre il previsto reiterarsi dell'offerta tedesca di una divisione corazzata per la Libia divisione che si voleva comunque rifiutare per ragioni politiche il sogno della guerra parallela perseguito da Mussolini fino a che non si ruppe malamente le corna Ancor peggio il fatto che un maresciallo d'Italia pensasse nell'ottobre 1940 di prospettare in tutta serietà un simile discorso lontano persino dalla più rarefatta tra le possibili visioni di una guerra moderna una sorta di programma più intonato ad un progetto di acquisti parcellari di terreno che è una campagna militare la dice lunga sull'attrezzatura culturale attrezzatura culturale dell'uomo che era ancora prestigioso ma in grado tutto che occupava la posizione militare più elevata subito dopo quella del capo del governo il quale ultimo a sua volta non ebbe difficoltà ad approvare in anticipo questa parte dei discorsi poi effettivamente tenuti da Badoglio a Keitel nell'incontro di Innsbruck del 14-15 novembre 1940 ma 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 interviene un altro dei fenomeni a me più cari tenetevi forte parla Graziani il maresciallo Graziani il 17 dicembre 1940 in piena offensiva britannica compass e alcumine si può dire Graziani ha quattro divisioni annientate a Sidial Barrani altre cinque racchiuse a Bardia senza speranza ed una in condizioni disastrose a Tobruk scriverà a Roma invocando in questi termini truppe corazzate penso che si debba passare sopra a giuste fierezze di altri momenti dice Graziani giuste fierezze giuste fierezze di altri momenti su cui passar sopra a Grazia insomma vabbè ricorrendo all'aiuto della Germania se noi potessimo avere oggi una o due divisioni corazzate faremmo sicuramente ripassare al nemico il ciglione di Sollum naturalmente sappiamo che in guerra il risultato non nasce solo dalle disponibilità di forze di un determinato tipo ma altresì e in pari misura dall'attitudine a trarne profitto e questa nel caso di Graziani può essere solo oggetto di ipotesi ipotesi su Graziani parliamone dicevo ma non è qui il punto essenziale del ragionamento bensì l'altro del tutto evidente l'offensiva britannica sommandosi agli esempi di Polonia e di Francia chiariva ormai a tutti che la potenza non andava più cercata nel numero quanto piuttosto nell'esaltazione della mobilità resa possibile dai mezzi meccanizzati da assegnare a forza di ridotta consistenza quantitativa le sole del resto che avrebbero potuto operare in un teatro privo di risorse naturali come il deserto la penetrazione di tale concetto più o meno riuscita a seconda dei cervelli cervelli quando c'erano i cervelli ma non mi fate essere cattivo e delle circostanze sarà l'unico frutto positivo della disfatta nordafricana di Compass risultato non solo costato elevatissimo prezzo ma anche giunto troppo tardi le successive applicazioni di questa lezione da parte italiana cheppure non mancheranno subiranno infatti il pesante condizionamento di due fattori la presenza di forze tedesche che garantiranno per un biennio la stessa esistenza di un fronte africano e il troppo modesto progresso qualitativo dell'equipaggiamento meccanizzato che il paese sarà in grado di fornire ad alcuni tra i suoi migliori combattenti in pratica le nostre divisioni corazzate mandate allo sbaraglio volutamente mal equipaggiate e soprattutto male addestrate quello che ho letto c'è il passo che ho letto di questo libro è oserei dire indispensabile per capire il meccanismo mentale che permeava i nostri alti comandi credo che ci sia decisamente poco da dire di Badoglio sappiamo tutto di Badoglio sappiamo veramente 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 di tutto un uomo buono a nulla ma realmente capace di tutto e del di più un uomo che ha passato veramente la sua vita ad accumulare cariche e prebende e quant'altro e come dire a accumulare gestire e detenere potere Badoglio era uno che amava il potere lo amava tanto lo amava tantissimo soldi e potere per Badoglio questo contava e il personaggio che rifiuta l'aiuto tedesco in Africa aiuto che poi fumo costretti ad accettare a causa della catastrofe dell'operazione Compass insomma la dice abbastanza chiara quello che ho letto le dichiarazioni che ho letto di Badoglio sono a dir poco agghiaccianti cioè tenendo anche presente di quello che riuscirono a combinare gli inglesi con poco più di 30.000 uomini eh ci sbatterono via fino oltre Tobruk con cosa? con una forza di almeno cinque volte inferiore a quella dell'esercito italiano in Libia una cosa vergognosa indubbiamente una cosa estremamente vergognosa la condotta della guerra in Libia fino diciamo alla catastrofe ripeto perché non può essere chiamata con un altro nome la catastrofe di Campus di Compass quella poco più di 30.000 angoli indiani che fanno a pezzi 140.000 italiani e la colpa di chi fu? Dei nostri soldati che gli stessi inglesi in questo caso ammisero essersi comportati con onore e con valore ma che poco potevano fare colti completamente di sorpresa e senza alcuna possibilità di reagire di trovare una possibilità per contrastare questa avanzata che avveniva con metodi che a noi italiani erano completamente e del tutto ignoti perché noi contrariamente agli inglesi non fummo mai in grado di come dire imparare da quello che i nostri alleati e gli sconfitti dell'epoca facevano incappammo negli stessi errori l'uso dei mezzi corazzati a spizzichi e bottoni e bocconi l'incapacità di fornire mezzi corazzati decenti al nostro esercito la spaventosa arretratezza mentale culturale e morale degli alti gradi del nostro esercito tutto qua e ripeto nessun tradimento non c'erano tradimenti non potevano esserci tradimenti perché quegli uomini erano lì tutti grazie a una persona a Mussolini tutti tutti compreso Badoglio compreso Graziani tutti quegli uomini erano lì per grazia e volontà di Mussolini che deteneva i tre ministeri relativi allo sforzo bellico italiano guerra aeronautica e marina erano tutte nelle mani di Mussolini per tramite dei suoi fedelissimi quindi se qualcuno pensa che la marina le azioni o l'esercito abbiano tradito e che fossero inaffidabili covi di demopultocratici giudaico-massonici beh dico solo una cosa dovrebbero darsi solo una calmata e di farsi una botta di conti con le carriere massoniche di almeno e ripeto e sottolineo almeno una quindicina dei componenti del Gran Consiglio del Fascismo e allora sì che c'è il demoplutocratico complotto giudaico-massonico in giro vabbè vabbè signori che vi devo dire io spero di essere stato sufficientemente chiaro e spero che questo video vi sia piaciuto l'opera di Ceva e Kurami è a dir poco esemplare ripeto una ricerca fredda accurata condotta con precisione chirurgica che colpisce dove deve colpire con grande diplomazia con grande garbo ma colpisce dove deve colpire e colpisce senza pietà ok quindi io vi posso dire cari signori se volete una opinione su questo importantissimo libro ripeto cercate di procurarvelo perché ne vale la pena ok e una volta letto una volta conosciuto questo libro così vi renderete conto della difficoltà soprattutto mentale che i nostri soldati ebbero quando furono messi nelle cosiddette scatolette di sardine mezzi eroici che fecero molto più dal loro dovere ma che come dire non potevano durare non potevano reggere il confronto con le produzioni straniere tutto qui quindi cari signori io spero soltanto che questo video vi sia vi sia piaciuto come sempre fatemi sapere aspetto vostre notizie e soprattutto passate una serena e felice nottata buonanotte signori arrivederci a